Salve a tutti ragazzi, io sono Aaron Blaise e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Happy Wheels! Faccio l'intro iperveloce perché ho pochissimo tempo, tipo un quarto d'ora e se non registro subito non riesco a darvi nessun video, per cui... Ehm, muoviamoci subito con i bros level. Direte, ma come? Fai l'intro veloce per risparmiare tempo e poi perdi tempo a spiegarcelo. Ehm, sì, boh. Comunque sia, allora, ordiniamoli subito per rating e vediamo che nuovo livello potremmo fare. Tipo il primo freeze wall, muro ghiacciato, vediamo, potrebbe promettere bene. Mi turba quella cosa che c'è lì in basso a sinistra, sembra una mina, ma non capisco che ci fa lì. Ehm... Ah, ok, così. Ah, si blocca in aria. Ma guardate un po' che puttanate, quindi... Ok, direi che... Ehm... Ho capito il senso del livello. Penso che lo devo fare straveloce, tipo se no... È casino, è fatti. Ok, allora, figlioccio lo lasciamo subito qua, perché a giro... Mamma mia, che mal di testa che ti... Ti sei tirato una cragnata? È impossibile. Dai, devi... Che cazzo... Devi fare... Così... No... Boh... Aiuto... Is impossible... Impossible is nothing. Ok, andiamo al prossimo... Bene... Dai, no, ci passa lo stesso! Epico! Epico, carota! Un grande! Ehm... Dai! Dai che ce la facciamo! Sì! No! Ehm... Non so... Uh, contorsionista style! Mamma mia! Doppio 360! Un genio! Un genio! Dai! No, amiche, sei epico oggi, carota! Ti voglio un sacco di bene! Dai che ce la stai facendo! Dai che sei... Un grandissimo! Con sti baffoni! Livello 5! Guardi, questo è facile! Non ti puoi lamentare! Sembra che sta andando in monociclo senza mani! Ehm... Ce l'abbiamo fatta! Uhuh! Dice il be... No! Bastardi! Non se lo meritava! Ma dai! Che cattiveria! Uh, Kill Your Boss! C'è il titolo già... Bellissimo! Ehm... Premi Z! Aha! Ah, ci sei anche tu! Dai, facciamoci un giro insieme, boss! Perfetto! Sono quasi tentato di riprovarlo! L'ascensore è rotto! E io ho fretta! È arrivato a casa in un batter d'occhio! Questo è poco, ma sicuro! Knife Throw! Mi avete chiesto di fare questi livelli! Che... Come quello precedente, no? E... Sì! Credo semplicemente... Devo fare... Così... Sì? No? Come devo fare? Ehm... Ah... Guarda un po' te! Tipo... Ah, se uccido il... C'è figlioccio? Ok, allora... Lavatrice, se uccidi figlioccio... Hai vinto tutto! Questa è una questione personale! Non mi faremmo più dannare... Su quella fottuta bicicletta, figlioccio! What's up? Ehi, cazzo! What's up? Sì! Sì! Godo come un porco! Buah! Ah! Ah! C'è un livello che si chiama porn? Mm? 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 Lui ha la faccia da... Tipo... Da maniaco sessuale, per cui mi sa che è il più adatto di tutti. Ehm... Sì, allora, se io gli do 5 di voto e ricomincio, vedrò il miglior porno di sempre, certo. Ci casco 3.000 volte. Ah! Questi livelli... Madonna! Fanculo! The Cave! The Cave! Allora, che cosa sarà The Cave? Oh mio Dio! Che cazzo di livello è? Che cosa devo fare? Devo tipo cercare di cadere bene, mi sa. Non lo so. Oh no! Aspetta, com'è che si faceva? Dai! Grandissimo! Epico! Tiralo giù! No, non ce l'hai fatto. Che cazzo fa so stronzo? Ma dai! Eee, esagerazione! Lascia cadere il mazzo, sennò ci fracciulliamo tutti. Penso che siamo arrivati. Aia! Cosa devo fare adesso? Ma in che modo si vince? Dice una monetina, però... Non riesco a prenderla. E non c'è nessun finale per la vittoria. Non so perché, ma ci voglio riprovare. Sperando che questa volta... Io riesca a scendere tutto intero. Guardate, le evoluzioni, i parkour di alto livello. Sì, certo. Dai, che ce la facciamo? Non so che cazzo... Eh, l'impazzo assassino schifoso. Che cosa mai dovrò fare? Non... Oddio. Aia. Aia. Ah, la moneta! Ma l'altra volta ce l'avevo di fianco! Perché non l'hai presa? Coglionate! Impossible 99%. E io ci provo, però sicuramente... Non ce la farò. Aspetta, che cazzo... Che cazzo dovrei fare? Tipo... Ah, devo semplicemente andare lì, però... Gli arpioni mi faranno sicuramente il culo e poi... Non si riesce a saltare assolutamente. Uuuuh! Si vede che faccio parte di quell'1%, il primo colpo, ragazzi, eh. Mitico. The Impossible Cube. No, basta, il livello è impossibile, intanto fan cagare. North Pole. Il Polo Nord. Wow. Interessante. Sicuramente mi cadrà una stalattite di ghiaccio in faccia. Me l'aspetto da un momento all'altro. Mi sa che mi muovo, tipo. Proviamo ad andare straveloci. Facciamo anche le penne! Oh! Non cazzo, intanto era figlioccio. Sto schifoso. No, una slavina! Una slavina! Oh mio Dio! È solo una pallina, ma dai! Dove vuoi andare? Superiamola! Sono solo due palline. Cosa sarà mai? Che ha signori e signori! Penne incredibili! No! Cosa è successo? Oddio il cervello! C'è il cervello di fuori! Che cosa sta facendo figlioccio? Li gratta ai polpacci? Perché? Perché sei così deficiente? Ho sbattuto violentemente la faccia contro una parete di vetro e si è maciullato tutto. Eh, sì, non era solamente acqua questa. Prendi velocità! Eh, non ce la farai mai! Su! Dai! Dai che lentezza! Muoviti! Ah, che bella passeggiata, ragazzi. Ah, finalmente siamo arrivati. Ti devi muovere, cazzo! Giù! Ah, no, è vero che c'è la parete di vetro. Prendiamola con la ruota, tipo. Così. Minchia, sono stato un genio a farlo. Ehm. No, devo prenderla rincorsa, se no qua è casino. Dai, dai che ce la facciamo. Anzi, ammazziamo figlioccio. Così! Vai! No, sono morto io! No! Che cazzo di sfiga! Minchia, super rincorsa. Appena arrivo lì, capriola, e ti spacco la faccia! Vai! Sì! Sì! No, non è morto! Eh, adesso sei morto, però. Madonna! Levati dalle ruote! Levati, che mi stai ostacolando. Bella, ce l'ho fatta. Sono tipo soddisfattissimo. Mi sta stronzata. Oddio, via 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 che ti fa malissimo. Le schegge in faccia. Dovrebbe essere l'ultimo. E... Che cos'altro ci sarà? No, sono stallattiti veramente? No, vabbè, non cadono. Niente di cui preoccuparsi. Vai, un'altra volta la rincorsa. Adesso forse ce la faremo. Se... No! Non riesco a rompere sto cazzo di vetro. Oh, finalmente! Sente. E... Sì? Ah, ok. Devo passare attraverso. Ma non è ancora finito? Sì, è che è finito. Ma... No! Perché mi ha ficcato una katana in gola? Tipo deep trot incredibile. Assassin target pret. Tipo Assassin's Creed. Mi immagino. No, è solita cazzatona di allanciare le spade. Non l'ho neanche presa. Perfetto. Oddio! Tra poco mi cadeva in testa. Prendila. Sì, certo. No? Non ce la farò mai. E... Nel culo gli è finita. Ma dai, ma come hai fatto? Cioè, sei solo te. Don't kill him. Certo. Devo tipo concentrarmi tantissimo. Ma vaffanculo, dai. Cioè, ti sei inciampato e cadi con la testata sulla lama e ti sei aperto in due il cranio. Complimenti. Bravo. Proviamo così. Sì. Sì. Di rinculo e di rimbalzo. Mentre lui cosa sta facendo la polca? Guardatelo. Si sente russo. E abbiamo tipo tagliato la... L'ananas con il manico, però fa niente, va bene così. E direi che anche per questo video è tutto. Abbiamo lanciato un po' di pugnali e fatto... Buchi ovunque ai poveri malcapitati. Io vi invito a lasciarmi un like, un commento se vi è piaciuto il video. E soprattutto a condividerlo più che potete. Un saluto da Eren Blaze e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!